a tutti ragazzi eccoci qua per una nuova presentazione un saluto a tutti quanti dal fantastico mondo perfetto come sempre ok siete tutti invitati come solito grazie mille sempre a tutti quanti perfetto ragazzi oggi praticamente daremo l'anticipazione di un altro componente o meglio chiamiamolo appunto col suo nome pulsante somiglierà proprio o meglio sarà molto simile appunto al pulsante a fungo che avevamo appunto già visto nelle scorse presentazioni perfetto solo che cosa cambia che è un pulsante praticamente livellato in poche parole a livello nel senso che praticamente non sporge fuori al posto di avere il nostro fungo ok abbiamo semplicemente il nostro si giochiamo con le parole abbiamo semplicemente il tasto chiamiamolo un po come vogliamo ma possiamo vedere che il blocco è praticamente uguale formato sempre dal suo telaio metallico perfetto la ghiera in questo caso e sotto abbiamo due blocchi perché perché questo qua è un pulsante con spia incorporata infatti possiamo vederlo che abbiamo sotto due blocchi quindi nella parte centrale non so se si vede scusa spostati un attimo bravo grazie nella parte centrale abbiamo appunto la spia che in questo caso essendo la sua testa arancione anche la spia sarà arancione perfetto invece dall'altra parte abbiamo il blocco punto dei contatti tipico del nostro pulsante per quindi noi avremo un pulsante che quando noi premiamo automaticamente avremo quindi la possibilità di accendere o meglio si accenderà la spia e automaticamente chiuderò anche il circuito per cui è un pulsante con spia incorporata tipici pulsanti ovviamente da usare scama che usiamo nei quadri elettrici industriali ma questo ormai lo sappiamo e lo vediamo alla perfezione perfetto ragazzi perfetto infatti vediamo lo vediamolo bene vediamolo bene ok perfetto un attimo ecco io premo ma non si accende giustamente perché non gli sto dando l'alimentazione ok perfetto ragazzi per cui dobbiamo dargli alimentazione per farlo accendere il colore appunto della spia abbiamo detto è arancione e quindi ovviamente anche la spia che abbiamo attaccato sarà arancione e la cosa bella che io volendo appunto questi blocchi qua posso per noi personalizzarli e posso attaccare anche altri contatti ovviamente questo è più un altro dall'altra parte scusa un attimo girati perfetto più anche un altro dall'altra parte che in questo caso appunto però non c'è fantastici ragazzi fantastici e ovviamente compariranno nelle nostre prossime presentazioni non vedo l'ora di vederli perfetto ragazzi e allora io sono pronto e diamo quindi alimentazione col nostro amico alimentatore come va sei pronto perfetto dai allora diamoci una mossa eccola che si accende perfetto scusa ma se però tu non ti giri poi la gente non ti vede che cavolo girati un po ecco quindi la nostra spia accesa perfetto e quindi noi premendo poi potremo anche chiudere il nostro circuito ma non è meraviglioso quante cose possiamo fare ragazzi con questi pulsanti interruttori spie eccetera eccetera quante cose ma le vedremo presto ok ragazzi ciao a tutti e ci vediamo nella prossima presentazione ciao